Ben ritrovati gentili amici del canale youtube Gianluca Rossi TV e del sito Gianluca Rossi.it Allora, tanto per cominciare vi ricordo a livello statistico, visto che è stata una settimana meravigliosa vi ricordo l'app di OneFootball per andare a rivedere un pochino tutti i dati, i numeri, le statistiche perché in effetti se ne scoprono di cose interessanti. Si è chiusa una settimana fantastica per l'Inter, parliamoci chiaro, praticamente quasi tutto se leviamo il Napoli che ha ammazzato letteralmente la Lazio, ma quasi tutto quello che l'interista desiderava in questa settimana è avvenuto. Il Milan ha preso altri tre fischioni in casa dal Sassuolo, anche l'anno scorso il Milan-Sassuolo fu una partita tragica per i rossoneri, il Milan ha preso sette gol in due partite, l'Inter invece in questa settimana ha raggiunto, che era importantissima, la qualificazione agli ottavi di Champions, ha giocato una partita a Venezia dove è tornata a vincere dopo 54 anni, pensate, splendida, chiaro che il Venezia non è che sia stato sempre in Serie A, ma l'ultima volta che avevamo vinto là era stato nel 1967, perché poi a Venezia, diciamo in epoca moderna, con il Venezia in Serie A e il Venezia di Zamparini e di Ricoba, era successo di tutto, mi ricordo in particolare nel 99, tre gol del Venezia in 25 minuti, tra cui la punizione di Ricoba, mamma mia un disastro, era l'Inter 98-99 di Oxon che era tornato ad allenarla in attesa di Lippi, una stagione drammatica, dopo 20 minuti, meno di 20 minuti eravamo sotto di tre gol, poi un'altra volta avevamo perso 1-0, un'altra avevamo pareggiato 1-1, insomma quando c'erano Oxon, Cooper eccetera in epoca recente Venezia ci diceva sempre male, questa volta invece abbiamo vinto una partita secondo me bellissima, una partita gestita con il vantaggio di misura e della cosa che non riuscivamo a fare fino al 95esimo quando poi è arrivato il rigore del 2-0, comunque devo dire dal punto di vista della maturità forse una delle migliori partite dell'Inter, ma non voglio mettere limiti alla provvidenza, adesso la classifica dice che siamo a un punto dal Milan, al Milan abbiamo recuperato in pratica in sei giorni, abbiamo recuperato qualcosa come sei punti, è presto, l'ora adesso vado a vedere il calendario fino a domenica prossima quando noi avremo la partita insomma più difficile perché bisogna andare a Roma da Osè Mourinho e lì è dura, ragazzi è durissima e quindi voglio arrivare fino a questa settimana al Milan adesso a due partite veramente semplici sulla carta, la trasferta di Genova col Genoa dove ritrova Shevchenko e poi gioca in casa con la Salernitana quindi insomma mi pare chiaro che possa avere sei punti, devo dire che invece il Napoli che ha stramazzato, ha ammazzato letteralmente la Lazio nella serata del ricordo di Maradona ha dato una grande prova di forza e questo mi sembra che tutto sommato testimoni che un po' di calcio ne capisco perché io vi ho sempre detto che dopo Milan-Inter 1-1 avevo avuto al di là del risultato la consapevolezza che secondo me poi se ce la faranno sono bravi, sapete che quando dico queste cose trovi sempre qualche fanatico che te ne dice di tutti i colori, però avevo avuto la consapevolezza secondo me o comunque l'impressione che il Milan non poteva reggere fino alla fine viceversa quando abbiamo battuto il Napoli e noi invece il finale del Napoli con il gol di Mertens, Mertens è un grandissimo giocatore, adesso non hanno Schemen ma avete visto la doppietta di Mertens, giocatore straordinario, bisogna vedere quanto durerà ovviamente, invece ecco dopo Inter-Napoli 3-2 io ho avuto invece la consapevolezza, l'impressione che il Napoli potesse durare fino in fondo e quindi non mi sorprende il fatto che il Napoli sia ancora in vetta, però la distanza posso dirvi è una distanza tutto sommato che ci può stare a novembre, se noi ritorniamo al 31 ottobre eravamo preoccupatissimi, il Milan aveva appena vinto a Roma, aveva fatto comunque un mese incredibile, invece novembre è stato un mese maledetto per i rossoneri perché tra il derby dove hanno salvato la pelle per caso, parliamoci chiaro, per caso e poi le altre partite dove hanno preso 4 gol a Firenze e 3 con il Sassuolo, insomma adesso mentre noi li abbiamo vinte finalmente siamo riusciti a vincere un certo numero di partite e insomma mi fa pensare tutto sommato che ripeto il nostro avversario alla lunga possa ancora essere il Napoli, ma dipende tutto da noi, intanto fatemi dire è la settimana assoluta di là di Messi che probabilmente hanno già annunciato stasera vincere al suo settimo pallone d'oro, questa cosa farà discutere per alcuni doveva essere Lewandowski, vabbè, però fatemi dire in chiusura di video editoriale che ho titolato cose turche ma non ne ho ancora parlato perché poi è la squadra che ha funzionato che dopo Lazio Inter ha fatto 23 punti in nove partite, Ciala, Cialanoglu, mi viene quasi da ridere insomma con tutto il veleno che gli hanno tirato addosso, per questo che ho titolato cose turche Cialanoglu è al momento il centrocampista farà sorridere, Brozovic è fuori concorso per sempre in forma, Barella è stanco, è il centrocampista che ha cambiato il volto all'Inter mentre il Milan fatica, il Napoli no, ma il Milan fatica a trovare i gol dei centrocampisti direi che il Napoli no perché lì tra Ruiz, Zelinski comunque segna molto anche loro Cialanoglu è arrivato a 4 gol, praticamente tutti quelli che aveva fatto l'anno scorso al Milan già a novembre e 4 assist, credo che sia una rivincita anche per lui incredibile probabilmente abbiamo tanto discusso sul ruolo, Cialanoglu forse in questo ruolo non si trova bene quando magari forse era solo questione di tempo che prendesse fiducia, devo dire che il derby gli ha letteralmente cambiato la vita anche con tutto quello che insomma di antipatico gli è successo, gli insulti e devo dire che quando dico sempre quelli con la sindrome del cornuto, che magari tengono un giocatore e gli danno il numero 10 per 135 partite e appena questo va a giocare dall'altra parte diventa un bidone assoluto, beh insomma se Cialanoglu, sapete che io ho sempre amato Eriksen, sapete che io ho sempre amato Eriksen ma insomma se questo è il Cialanoglu dell'Inter ben venga e quindi sono molto contento per lui perché se lo merita, perché deve aver lavorato con tantissimo impegno, si è messo a disposizione di Simone Inzaghi che oggi diciamo tutti l'ha voluto fortemente, in realtà questa è stata un'occasione di mercato quando ti è successa la tragedia Eriksen, però certamente Simone Inzaghi ha dei meriti nel nuovo Cialanoglu, adesso auguriamoci che duri, perché insomma un turco così francamente, e beh io non lo tolgo più dal campo, devo dire che Inzaghi poi ha spiegato a Venezia di averlo levato perché erano tre partite consecutive che giocava e vedeva che si massaggiava un po' il flessore, insomma in questo momento noi non possiamo assolutamente permetterci di perdere giocatori per infortunio, già abbiamo perso Darmian, già non sappiamo bene quando rientrerà De Vrij, però ragazzi è un grandissimo Cialanoglu, fatemelo omaggiare nella mia collezione di cappelli, eccolo qua, questo viene direttamente dalla Turchia, insomma cose turche ragazzi, questo Ciala sta dando ai tifosi dell'Inter delle soddisfazioni tremende. Adesso l'importante è andare avanti così, l'importante adesso è mettere in fila, non me lo sono dimenticato, il terzo successo consecutivo in campionato con lo Spezia, ricordiamo che in questa settimana il Napoli ha, non andiamo troppo in là, il Napoli ha Sassuolo in trasferta a Reggio Emilia, il Sassuolo appena preso a sberle il Milan e poi l'Atalanta, noi abbiamo lo Spezia San Siro, facile, sulla carta, facile, ma bisogna sempre giocarle le partite e poi attenzione dobbiamo andare a Roma da Murigno, il Milan ha due partite facilissime, Genoa e Salernitana, prevedibile che faccia sei punti, ma io ne prevedevo addirittura nove col Sassuolo, così non è andata e quindi ragazzi, viva l'Inter! Viva l'Inter! Viva l'Inter!